Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma i non-guardiani non avrebbero dovuto lasciare la città. Ricordati una cosa delle regole della città. Fuori dalle sue mura non valgono più. C'è una piccola fessura nel muro. Difficile da vedere, ma è proprio lì. Nessuno osa andare oltre. O quantomeno nessuno che tenga la propria vita. C'è una piccola fessura. C'è una piccola fessura. Vuoi sapere quando raggiungete l'altro lato? Otton. Otton, riesci a sentirci? Segnale perso. Hai sentito qualcosa? Siamo sotto attacco. Ti sei. Ti sei. Ti sei. Ti sei. E quelle creature erano i caduti? Saccheggiatore di un altro mondo che venerano le macchine. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Il frammento del viaggiatore. Ci siamo, uguale alla nostra visione. Il frammento del viaggiatore. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.